Sono Gabriele Montelisciani, ho cofondato una scale up del mondo dell'IoT e dell'intelligenza artificiale per l'industria italiana e internazionale. È la prima volta che partecipo ad iFounders e lo trovo un evento molto molto interessante, soprattutto qui a Pisa la possibilità di mettere insieme un ecosistema fatto di innovatori, di investitori e di aspiranti start-up, però è molto importante e in una location come questa è stata veramente interessante conoscere persone nuove e ispirarsi dalle storie di tanti che, come me, cercano di scalare verso il mercato e verso il successo con le nostre aziende.